Sono le 11.30 del mattino quando la Fiorentina decolla da Peretola per raggiungere la Danimarca. Due ore di volo, qualcosina di più per arrivare nella quinta città danese per grandezza. L'arrivo all'aeroporto è accolto dal grigio del cielo che sembra in qualche modo attanagliare comunque la città anche all'arrivo. Ma c'è soprattutto una sorpresa che non riguarda chi è sull'aereo in questo caso, quanto chi è pronto ad accogliere i Viola. Una vecchia conoscenza come Martin Jorgensen, un ex capitano, quantomeno fuori dal campo, che dopo aver salutato la Tissandro Mencucci, la dirigenza Viola e anche qualche ex compagno, tra cui soprattutto Manuel Pasquale, ha condotto personalmente il pullman che ha portato la squadra nella sede del ritiro all'Hotel Britannia all'interno di Esbjerg. Più tardi dunque conferenza stampa e allenamento, come sempre, la seguirete su Viola Channel.